Andiamo avanti, si parlerà di raccolta differenziata dei rifiuti durante diversi incontri promossi dall'amministrazione comunale di Caronia. Sentiamo. A partire da oggi l'amministrazione comunale di Caronia incontrerà tutta la cittadinanza sia del centro che delle frazioni, dai più grandi ai più piccoli, per confrontarsi sul delicato ed importante tema della raccolta differenziata dei rifiuti. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sensibilizzare i cittadini rendendo noti i benefici della raccolta differenziata. L'amministrazione comunale di Caronia vuole incontrare tutta la cittadinanza per confrontarsi su un tema delicato e importante quale quello della gestione dei rifiuti, la gestione differenziata dei rifiuti. Sono stati indetti una serie di incontri per confrontarci in maniera schietta, sincera e trasparente con tutta la cittadinanza sia di Caronia centro che delle frazioni. Nella fattispecie di Marina e di Canneto perché vogliamo coinvolgere sia gli adulti più grandi, i cittadini più grandi, appunto gli adulti che i più piccoli, quelli del futuro, i ragazzi, andando nelle scuole. Per far capire insomma che il rifiuto non è una zavorra, qualcosa che dà fastidio ma può essere, anzi deve essere una risorsa per tutti. Come si articoleranno gli incontri? Gli incontri saranno aperti, l'amministrazione farà delle proposte perché tra circa un mese alla fine di giugno andrà in scadenza l'affido della gestione dei rifiuti e quindi prima di risederci al tavolo vogliamo avere chiaro il quadro della situazione. Perché qualcosina sicuramente va e deve essere migliorato, però lo vogliamo fare confrontandoci con tutti e quindi sarà parte attiva la cittadinanza che quindi potrà dare le proprie proposte. Sia i cittadini liberi sia la commissione consigliare sui rifiuti che è stata istituita, con la quale io personalmente voglio avere un dialogo aperto, sincero, purché sia costruttivo. Quali sono le novità nella raccolta dei rifiuti? Allora, partiamo da un livello molto basso purtroppo, quindi la novità sarebbe raggiungere la normalità perché le percentuali sono bassissime e soprattutto quando non capiamo che mischiando tutto facciamo un danno. Citerei altre cose al primo posto, ma forse in questo periodo la gente capisce meglio se al primo posto mettiamo i soldi perché non differenziando andiamo a pagare tutti quanti di più perché ciò che non si può suddividere e riciclare va indifferenziato, quindi è un rifiuto morto che non produce niente. Invece dividendo la plastica, il vetro, il metallo, carta e cartone abbiamo oltre un ritorno di salute, di qualità e di rispetto per l'ambiente anche economico perché il comune non solo conferisce meno ma guadagna anche da quello che riesce a produrre alle piattaforme e ai consorsi che si occupano proprio del riciclo dei rifiuti.